Amministrazione comunale e associazioni di categoria concordano il rinvio dalla tradizionale Fiera dei Santi Medici, che si sarebbe dovuta svolgere la terza domenica di ottobre. Una decisione sofferta, motivata ovviamente dalla situazione epidemiologica in Puglia e dall'inadeguatezza della location sinora utilizzata. Sarebbe impossibile infatti garantire il distanziamento fisico. Quanto sia difficile come decisione lo spiega anche l'assessore alle attività produttive Mariana Legista, che sottolinea i non pochi disagi che sul piano economico subiranno gli operatori commerciali, costretti loro malgrado a rinunciare ad un appuntamento molto sentito, che ha sempre rappresentato una buona occasione di affari. Ma, assicura l'assessore, si tratta di un rinvio con la volontà di recuperare questo importante appuntamento nei prossimi mesi, in una location più accogliente e conforme a tutti i parametri di sicurezza per gli operatori e i cittadini.